Devo compressare il file? Puoi dire comprimere? Vabbè, però intanto mi capiscono tutti, no? Così dopo anni ho passato a fare il consulente e finalmente mi hanno assunto Ah, quindi ti hanno internato! In che senso? Sì, vabbè, sei diventato interno Ah, sì Congratulations! Me lo dicono tutti, ma io uso parole inglese solo perché sono le prime che mi vengono in mente È normale quando si sta all'estero dimenticarsi un po' della propria lingua Sì, vabbè, vabbè